Allerta meteo arancione era stata annunciata e un 16 maggio da tregenda non ha smentito l'allarme. Pioggia ha dirotto nella provincia di Pesaro Urbino, soprattutto nelle ore del mattino. Troppa per essere contenuta da strade trasformate in pericolosi laghi e torrenti. Allagate non solo le strade, ma anche diverse abitazioni, aziende e siti produttivi. Una lunga giornata di disagio alle famiglie e disagio alla circolazione con tutte le amministrazioni comunali e le forze di polizia pronto intervento riunite alla sala operativa integrata della provincia e impegnate in forze sul campo per attenuare i disagi che su Pesaro si sono concentrati soprattutto su allagamenti ed esondazioni. Per ora la criticità maggiore genica che stiamo evidenziando sul centro della città, il quartiere di Loreto, Muraglia, la zona di via Belgioioso, la zona ridosso del torrente genica. Altre situazioni molto critiche le abbiamo registrate già dalla prima parte della mattinata su Villa Ceccolini, su Villa Fastigi, zona del carcere per capirci, la zona di Scavolini della fabbrica, la zona di Santa Veneranda e Ponte Valle. Stiamo cercando appunto di gestire la situazione, di limitare i danni e di dare una risposta ai cittadini che sono in difficoltà. A Pesaro immagini impressionanti a Loreto in prossimità dei sottopassaggi chiusi al traffico e del genica esondato. Chiuso pure il cimitero centrale, allagamenti nella zona della stazione ferroviaria e gravi criticità anche a Villa Fastigi, Villa Ceccolini, nella zona Celletta e di Villa Caprile, in strada Fonte Secco, strada dell'Acqua Buona e zona Roncaglia. Disagi nella zona industriale di via Toscana e in quella di chiusa di Ginestreto, allagata la strada del Lobby in prossimità del casello autostradale, chiusa via Flaminia per asfalto disastrato da scoppio di tubazioni e cedimento di fognature. Diventato praticamente un lago il fossato di Rocca Costanza. E poi ancora frane e smottamenti in strada Panorami Cardizio e Santa Maria dell'Arzilla, disagi sulla Montelabatese e a Cattabrighe, dove ha finito per arenarsi anche un mezzo dei Vigili del Fuoco durante un'operazione di soccorso. Allerta massima sul livello di piena del foglia e sull'irruenza del mare sulle spiagge. Mal tempo che ha dato una tregua nelle prime ore del pomeriggio, consentendo anche di intervenire in maniera più incisiva nel deflusso delle acque dalle strade allagate. Il problema è sicuramente gli allagamenti, quindi i sottopassi, quindi la nostra attività con autospurghi per cercare di alleviare queste difficoltà. E soprattutto eravamo molto preoccupati dal forte vento che era previsto per il tema dei cassonetti e non solo. Quindi è chiaro che la nostra attività a fianco delle amministrazioni comunali è totale. Uscendo dal comune di Pesero viabilità in tilt per la chiusura delle strade provinciali fra Qualagna e Pergola, fra Lunane e Frontino, fra Casinine e Tavoleto, fra Urbagna e Piobbico, così come la strada a Monbaroccese e la Valle di Teva tra Conca e Fogliense. Dopo la chiusura preventiva delle scuole arrivate nella serata di lunedì su input della prefettura, per tutta la giornata odierna si sono rinnovati gli appelli istituzionali ad evitare di uscire dalle proprie abitazioni in attesa di quantificare i danni a persone e famiglie. Qualche famiglia è evacuata da alcuni comuni, poche persone, però qualcuno c'è, a Gradara, soprattutto la situazione è un pochino delicata. Stiamo comunque seguendo, diciamo, da mezzanotte ininterrottamente. Abbiamo riunito il CCS, siamo qui dalle 6, insomma, stiamo seguendo tutte le situazioni. La chiusura preventiva delle scuole è stata una scelta quanto mai oculata? Io ritengo proprio di sì, assolutamente. Le previsioni erano anche peggiori di quelle di questa mattina, di quello che poi realmente si è verificato, quindi credo che sia stata la decisione più giusta.